Lo spettro della scissione legge ancora sopra il Partito Democratico che esce dall'Assemblea Nazionale che si è svolta domenica scorsa a Roma con ancora qualche punto interrogativo. Tra gli erettini presenti all'Assemblea Nazionale anche il deputato Marco Donati. Non ci sono motivi particolari per cui questo partito debba dividersi. Quando si è cercato di entrare nel merito molti dei amici che in questo momento stanno paventando l'idea di una scissione non sono riusciti a spiegare motivi validi per cui questo partito si divide. E questo credo che l'opinione pubblica faccia fatica a comprenderlo. Credo che sia arrivato il momento di fare chiarezza cercando di avere tutti quanti sensi di responsabilità e capire che questa forza, una forza riformista nata per semplificare la vita pubblica del Paese non può invece diventare un elemento di debolezza del sistema politico. Quindi credo e spero che tutti ci ripensino. Ecco, tra le posizioni più scomode è sicuramente quella del governatore Rossi. Quali potrebbero essere le ripercussioni in terra toscana? Ma credo che il presidente Rossi da tempo aveva deciso di candidarsi alla segretaria del Partito Democratico. Ora che gli viene data la possibilità dovrebbe cogliere quella sfida visto che ha lanciato da tempi una serie di piattaforme programmatiche, una serie di idee sul quale è giusto anche che possano dividersi una parte degli iscritti e simpatizzanti del lettore del Partito Democratico. Credo che dovrebbe avere il senso di responsabilità di capire che il governo è una regione importante con un programma condiviso di alcune settimane fa e credo che anche dovrebbe avere la responsabilità di svolgere il suo ruolo appieno perché non distrarsi rispetto invece a tutta una serie di vicende ma magari sì candidarsi ma continuare nel governo della regione perché aspetta molte risposte sia alla città di Arezzo sia a tutti i cittadini della Toscana. Per quanto riguarda invece il territorio aretino c'è rischio, scissioni anche qua da noi? Ma io non credo perché questa è un'idea soprattutto dei gruppi dirigenti non è una questione che riguarda gli elettori simpatizzanti, il popolo delle primarie.